Bruxelles al centro dell'Europa con una nuova Yaris al centro dei nostri obiettivi. La Yaris Cross, quindi un altro capitolo per un'auto di successo che ci racconterai brevemente, grazie. Un altro capitolo della storia di Yaris e della famiglia di Yaris, perché la famiglia di Yaris si allarga, si completa con Yaris Cross e quindi dopo la compatta, dopo la sportiva GR Yaris, arriva anche il BSUV ed è l'ingresso di Toyota nel segmento dei SUV compatti, del segmento B. È una vettura che nasce su dei fondamentali molto forti, sulla nostra competenza, capacità di portare sul mercato automobili compatte, sulla nostra capacità, sulla storia di Toyota nello sviluppo di SUV, quindi di SUV, avendolo inventato come segmento oltre 25 anni fa con il primo RAV e poi capitalizzando sull'esperienza di Toyota con le motorizzazioni elettrificate e quindi anche questa vettura monta il full hybrid di ultima generazione, lo stesso che equipaggia la sorella Yaris. Ecco, nel panel di presentazione c'è un claim che mi ha colpito, nel senso che volevo sottolinearlo con te, questo big small packaging, che significa per Yaris Cross? Perché porta con sé proprio il DNA di Yaris, Yaris che da sempre è stata caratterizzata da, come dire, dimensioni particolarmente compatte esternamente, ma spaziosa e versatile nell'utilizzo proprio degli spazi internamente. Ecco, Yaris Cross mantiene queste caratteristiche, è un SUV particolarmente compatto, sotto i 4,20 metri di lunghezza, ma estremamente spazioso e appunto con una distribuzione di spazi a bordo estremamente fruibile. Ecco, a proposito di fruibilità e di caratteristiche e di peculiarità di questa vettura, la possibilità intanto di viaggiare in ibrido, ma di viaggiare appunto nella versione anche a 4 ruote motrici, quindi integrale, questa è assolutamente una proprietà di Yaris Cross. Esatto, ed è l'unica proposta nel segmento dei BSUV full hybrid a 4 ruote motrici, 4 ruote motrici che nascono con l'obiettivo di assicurare la massima sicurezza e facilità di utilizzo in qualunque tipo di condizione, anche quelle con l'aderenza più limitata. Da una parte è l'auto dell'anno e da una parte è una concorrente, sorella minore o maggiore in questo caso, quindi come sarà la scelta del mercato e soprattutto a chi si rivolge la Yaris Cross? Prevediamo che si possa rivolgere a una clientela piuttosto ampia, a tutti coloro che cercano una vettura per muoversi in maniera semplice e confortevole in ambiente prevalentemente urbano, ma che desiderano un SUV per sentirsi più elevati, più sicuri nel traffico e hanno bisogno di più spazio a bordo, quindi prevediamo di aumentare con questa vettura la platea di clienti a cui ci possiamo rivolgere. Mercato italiano, allestimenti, prezzi e disponibilità? La vettura è già disponibile, è già ordinabile in concessionaria, è disponibile in 5 allestimenti a partire da un prezzo di attacco di lancio di 22.650 Euro, grazie anche agli hybrid bonus offerti da Toyota proprio in questo periodo. Gabriele Villa, Bruxelles, fuori giri, il giornale.